Siamo a Milano, ragazzi, siamo in macchina e sto andando a incontrare l'Etoile, l'Etoile, Roberto Bolle, il grande Roberto Bolle. Per me la danza è proprio un'arte superiore, esiste solamente nel momento in cui si compie, per cui è come se fosse la più vicina alla vita probabilmente delle arti. Ci può essere danza anche senza musica e un danzatore, anche se tu non ascolti la musica, guardarlo danzare è già di per sé un'esperienza musicale, un'esperienza narrativa, un'esperienza poetica. Allora questa cosa qui per me mi fa pensare proprio alla danza come a un'arte superiore. Però insomma, che centro io qua? Questa è una bella domanda, anche io me la sto chiudendo. Qualche mese fa Roberto mi ha raccontato che stavano pensando a questo show su Rai 1, bello, con un bel team di persone, e allora mi ha chiesto se volevo essere ospite. Io ho detto subito di sì, senza sapere che cosa avremmo fatto. E poi ho pensato che in questi giorni compie 50 anni. E allora ho detto quale potrebbe essere un regalo da farmi per i miei 50 anni? Ballare. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Buonasera. Eccoli qua. Ciao. All right. Bene. Sei pronta? No. No, ma va bene così. Sei contento? Bella esperienza? Sì. Bella. Non c'è mai starter. No, no, no. Così no. Hai fatto la che la tv dedichi una prima serata? Una prima serata, direi. Ah, bello, no? Molto impegnativo, però molto bello. Io ti rovino tutto. No, no. Mi hanno proposto di fare questo programma per Rai 1, di scegliere degli amici, degli ospiti da invitare. La prima persona a cui ho pensato è stato Lorenzo. In una cena a New York è venuta fuori l'idea di fare un pezzo insieme. E io ho osato, ho buttato lì la possibilità di ballare insieme. E lui, Lorenzo, è entusiasta e quindi questo mi ha veramente riempito di gioia. Andiamo. Vai. Andate avanti. Vale. È bello però, è bello, dai qua. Bello, no? Sì. Ecco Max, Lorenzo. Ciao, piacere. Sentite, raccontatemi allora, dai, cosa succede? Tu fai vedere a Roberto, guarda che ballerino che sono, facendo quasi un movimento. E lui dice, vuoi fare il ballerino? Tu mi segui. E i primi passi sono proprio, io lo faccio, tu lo fai, io lo faccio. Ah, ok, ah, ok, non insieme. Sì, sono infatti, infatti, il primo lo faccio io e tu lo ripeti. Che è già impossibile, questa cosa che hai fatto adesso, è già impossibile. Il primo passo. Primo i giri, quindi devi fare due giri, passo. La dinamica è più fretta. Giusto. Poi andiamo, camminiamo, ci giriamo e faccio sinistra-destra e tu dietro, sinistra-destra. Come fare un quadrato? Andiamo su, di lato, giù e di lato. Tu arrivi e... Se vuoi fare qualcosa... Ma è bello anche se io... È bello anche se si crea un'attesa. Sì. Io ti guardo, va bene? Sì. È bello se c'è un'attesa, perché funziona da un punto di vista proprio del racconto. Sì, sono d'accordo. E sei tu che poi prendi l'iniziativa. Metti la musica, sentiamo l'iniziativa. Sì, sì, sì. Poi vedrai che sulla musica questa cosa qui crea ancora più estraneità e diventa molto bella. Bella. Io qua entro, no? Dove ci entrare in queste... Esatto. Si alza il vento, bisogna vivere. Non c'è nemmeno il tempo per riflettere. Dietro, avanti. Due. Passo, là. Indietro. Ah, ok. Ti porto indietro. Boom. Boom. Bravo. Ok. Musica. Ti alza il vento, bisogna vivere. Non c'è nemmeno il tempo per riflettere. Hai sentito, ancora un altro si è voltato indietro. Fantastico, tutto fantastico, da guardare. Perché io mi distrae lui, capito? Mi distrae perché tendo a correggerlo. Ti alza il vento, se guardi fuori vedi gli alberi muoversi. Ti vengo a prendere, andiamo fino in fondo al nostro miglior errore. Nei deserti e nei parchicci allora che si svuotano. Nei mari aperti e tra la folla i volti che si mischiano. Mischiavi. Ce la faremo. Ce la faremo. La mia vita di artista si basa tutta sulla ripetitività. Qui invece non ripetete mai un niente. Scrivere canzoni è questo, trovi una formula di futuro, te la ripeti per tutta la canzone. Un bel giro di basso, un bel giro di chitarra. No? Invece voi non ripetete mai? Qua è sempre vero. Porco, cazzo. Cioè, capito? Sto andando contro me stesso, proprio così, come col macete nella giungla amazzonica. Quindi siamo arrivati qua. Sì. Faccio destra, sinistra. Gamba destra avanti. E indietro, indietro e allunghi. Un cerchio, un cerchio e Fred Astaire. Facciamo una piccola pausa? Anche solo per... Sì. Sì, sì, sì. Qual è il tuo preferito? Dei classici? C'è quello proprio che ti piace danzare. Dove hai un pezzo tuo che ti fa impazzire. Dei classici, classici 800, Gisario è il più bello. Perché comunque ha il secondo atto che è molto bello. Lo hai un solo bellissimo. La solo, è quasi a due. Un balletto bello. Poi quelli del 900 invece sono ancora meglio perché hanno... Drammaturgicamente sono più profondi, intensi. Quante ne avevi quando tu hai fatto la tua prima... Vent'anni. Hai fatto il primo solo... Il primo Gisario è il primo Romeo. Dove? Nella Scala. Grazie. Bello. Te lo ricordi? Il primo ruolo, sì, sì. Mi avevano messo in cast un paio di mesi prima e per ora molto, molto agitato. Ah, cazzo. Non pensavo in realtà di essere in grado. Pensavo che non ce l'avrei fatta. Perché è un balletto veramente impegnativo, tante cose, tanti assoli, parti con il corpo di ballo e non avevo mai fatto un ruolo da primo ballerino. Invece è andata benissimo. È andata molto bene. E poi con lo stesso balletto, un po' di mesi dopo mi hanno promosso primo ballerino. Quindi lì ero corpo di ballo. Esatto, primo ballerino della Scala all'età di? 21. Quindi è un record quasi. Eh sì, prima di 21 anni ho un'età molto giovane. Cioè sei giovane per essere un ballerino. È un mondo poi di passione perché poi è di pura passione perché non è che lo fai di gloria, se non il fatto della soddisfazione di star dentro un mondo. No, è vero. Per quello che tu investi personalmente ogni giorno in questo, cioè nelle ore di lavoro, di sacrificio. Infatti a me è quello, ogni tanto quando t'ho visto per esempio al Metropolitan, una cosa che mi colpiva è il fatto che tu in qualche modo portassi avanti una cosa che è molto antica, è allo stesso tempo viva, però è come se tu fossi collegato a qualcosa addirittura che c'è qualcosa di sacro dentro. Guardandosi, guarda che bello. Sono qui però in questo momento, potrei essere in qualsiasi epoca, potrei essere in qualsiasi tempo, sto vivendo una cosa che è assoluta, che è lì, che è fuori dal tempo, è fuori anche dallo spazio e la sto vivendo adesso e non adesso, in un'ora. che però è magica, allora mi commuoveva questa cosa qua, perché è come se tu fossi riuscito a tirarmi fuori dalla vita normale, dal tempo, sei di fronte a una cosa che non c'è bisogno, cioè non sei d'accordo, è lì, è come il sole, non è che non sono d'accordo con il sole. La libertà che c'era sotto ai tavoli da ragazzini, quelle cose che ci diciamo e poi lasciamo perdere, per esempio, provare veramente a fare quello che volete. Andiamo così, quindi facciamo due giri e tu praticamente parti di là, esatto, fai così. Ok. Come fate a non far visire la testa? Fissi un punto, quindi se tu fissi un punto, se invece vai così, ti gira tutto. Però, c'è, bravo. Così? Esatto. Perché sto andando nell'off, mi sono andando in off. Eh sì, perché dopo un po' non riesco più a seguire l'informazione. Cioè, conoscete il problema? Conosciamo il problema. Facciamo un video, così lui lo guarda, cioè, visivamente, se lo guarda, perché sennò veramente adesso ha tante informazioni. Tant'altro, ce l'ho. Ce l'ha. E con me. Queste colonne non è che aiutino tanto, sempre paura, no, che uno ce lo va a sbattere. Tu abbellisci tu, cioè, e qua sono me. Io schianzo da ridere, sembra una roba dei Monty Python. No, no, ma è già scattato. Sì, sì. La disperazione è scattata. Ragazzi! Ragazzi! Buongiorno. Ciao, capo. Qui stai? Bene. Sì, tu? Non puoi capire. Non puoi capire. Che giornata mi hai fatto passare. Ma ieri sera ero distrutto, ma nella psiche mi sentivo proprio inadeguato. Sai quando dici proprio, e sono confrontato con una cosa impossibile. Poi guardavo il video, guardavo lui, cazzo. Cioè, sono così pentito. No, è da. Tu non pensi di saper far tutto, hai capito? Penso, sei un figlio, fai tutto, no? Alla fine, sto cazzo. No, dai, non è difficile. Certo che... Perché poi vedendo... Vedendo... Non è difficile, lo fa così. Fai così, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Invece è incredibile. Cioè, capisci anche proprio, capisci cosa fai. Fantastico, fai un lavoro pazzesco. Sì, è bello. Cioè, la danza alla fine non è altro che una... Una forma poetica della vita, poi, alla fine, no? Dare una poesia proprio alla vita. Stano, ci riflettevo, beh, cioè, all'elà di tutto. Per me il privilegio è vedere questa cosa qua. Infatti, è fantastico. Io non ho fatto niente, non ho fatto i compiti, non me l'avete dato i compiti, per cui... Vediamo il compito. Abbiamo detto di riguardarlo, però l'hai riguardato. L'ho riguardato, quello l'ho riguardato, sì, con disperazione. Con disperazione. Perché l'ho riguardato e... Vabbè. Volevo dirvi una cosa sul finale, per inserirla all'interno dello show. C'è qualcuno del programma? Pamela. Pamela, per inserire questa cosa dal punto di vista narrativo all'interno dello spettacolo. Io pensavo ieri che potrebbe essere interessante che all'inizio non si dica nulla, avviene la cosa. Alla fine noi ci dividiamo, noi non parliamo mai, va bene? Magari alla fine troviamo il modo per abbracciarci e salutarci. Poi tu vai e io rimango in camera, ok? E dico... E dico una cosa. No, lo devi insultare pesantemente, perché se no lo facciamo show. Volevo dire che pochi giorni fa, visto che sarà il 9 ottobre, l'8 ottobre, pochi giorni fa ho compiuto 50 anni e non c'era, non ci può essere il regalo più bello per me, per questi giorni ai miei 50 anni, di ballare. Ballare. Con il più grande di tutti. Si alza il vento, bisogna vivere. Non c'è nemmeno il tempo per riflettere. Hai sentito, ma ancora un altro si è voltato indietro, ha rinunciato, quando mancava solo qualche metro. Si alza il vento, se guardi fuori vedi gli alberi muoversi. Ti vengo a prendere, andiamo fino in fondo al nostro miglior errore. Nei deserti e nei parchicci allora che si svuotano, nei mari aperti e tra la folla i vulti che si mischiano. Il titolo del pezzo Si alza il vento l'ho preso da un cartone animato che a sua volta l'ha preso da un poeta. Cioè io ho visto questo cartone animato di Ayao Miyazaki, che è una mia fissa, uno dei miei punti di riferimento, però mi piace, vado a vedere tutti i suoi film. È un animatore giapponese, fa film d'animazione, forse il più grande di tutti. Era andato a vedere questo film che si chiama Si alza il vento, ho scoperto che lui aveva preso questa frase, Si alza il vento bisogna vivere, da una poesia di Paul Valéry, che è un francese del Novecento, che è semplicemente una bella frase, Si alza il vento bisogna vivere. È una canzone che ha dentro una speranza, ha dentro però anche una malinconia, ha dentro una leggerezza, ma allo stesso tempo un senso di vuoto. Allora avevo pensato che per una scena di danza come quella che volevamo provare a mettere in piedi questa canzone fosse giusta. Fosse giusta proprio perché quello che poi succede qui è un po' questo, non è chiaro se sia un momento di pura leggerezza o ci sia dentro della follia o ci sia dentro un po' di malinconia anche. Io torno a dire che il privilegio di poter essere con un grandissimo come Bolle in questa cosa qui arricchisce tutto, per cui fa diventare anche la canzone a cui sta molta magia. Si accende di parole dette sotto voce, le sale e i giochi tuonano, si sente anche da fuori, andiamo via a vedere che c'è, infonda questi nostri cuori. Si alza il vento Facciamo una piccola pausa, dai poi rifacciamo tutto il giro, va bene, ci sediamo 5 minuti. Quando c'hai lo spettacolo fai comunque training la mattina? Si perché comunque ti dà, il muscolo lavora a secondo riscaldamento è meglio. Si si parti da freddissimo. La tua vita è uno stretching. Io ti ho visto quando sei la cena, comunque tu ti metti sempre seduto in una posizione, non ti metti mai cosa faccio io, non ti metti mai così, io non ti ho mai visto a tavola. O poi sai, piani sul divano, ogni tanto ti capita di mettere il comando così, ma va brutto. Secondo me no. Anche quando guardo la televisione faccio esercizi. Si si, quando guardo la tv sarai così, finirei del... Faccio plank. Questo lo faccio anch'io. Tu senti che ci potrebbe essere un'evoluzione della danza? Eh sì, nel senso che comunque i nostri insegnanti, cioè noi lavoriamo su quella che è anche una tecnica della danza che è stata diciamo codificata nell'Ottocento. Certo, che è sempre quella. Quindi non si è mai evoluta gli esercizi, sono rimasti più o meno quelli, le variazioni, quello. Adesso appunto c'è stata un'evoluzione nel fatto che alcuni salti, i salti sono più alti, sono diventati un pochino più tecnici, l'apertura, l'elasticità, le ballerine hanno le gambe su. Esatto, quindi quello si è tutto evoluto, però non abbiamo un preparatore che ti dice ok, adesso invece di saltare qua devi saltare 20 centimetri in più e per fare questo devi fare questo tipo di esercizio. C'era questo pezzo di Mike Zeni, primo ballerino della scala, mio collega, perché ho detto questo potrebbe essere adatto per me e per Lorenzo, perché non è troppo difficile, si può fare. La coreografia è un duetto che si basa su un rapporto di amicizia, nel senso è come una sfida, ma è una sfida tra amici, è un viaggio fatto insieme e allo stesso tempo, come dirò, un confronto. Subito! Per me è stato molto divertente lavorare con loro, perché sono due persone che amano fare le cose per bene, ma allo stesso tempo in allegria. Bla 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 bla, e io qui, lui va, e io qui racconto la mia cosa. Cominciamo a... perlomeno io cominciamo... Cominciava a essere... Sì, abbastanza. Un pezzo. Che dici maestro? Cominciamo a essere... Le gambe magari erano sbagliate, però hai ballato, perché l'hai fatto da ballerino. Sì, sì, sì. Cominciavi a... No, però quando c'è la musica, poi quando uno si comincia a godere, la musica è musica, eh. Pazzesco bolle. Adesso lui non mi sente, ma è veramente pazzesco. Questi due giorni per me sono una grande esperienza. Difficile, proprio difficile. Cioè, ripensandoci, come dire, ogni tanto mi sale il pentimento. Però... Però sono molto belli. Come tutte le cose difficili, poi ti capisci che ti stai imparando una cosa che poi utilizzerai in un altro modo. Io non ballerò mai più, probabilmente. Io non so cosa imparerò da questa esperienza. Sicuramente non a danzare. Perché io continuerò a ballare come un toro ubriaco. Però... Però altre cose mi scattano nella mente. Bene, cazzo. Che privilegio. Uno dice passare due giorni, tre giorni, quattro, due, tre con Roberto Bolle. È come... Così. Basta. Stavo parlando male di te, molto male di te. Io vorrei... Mi piacerebbe vedere un po'... Io siccome non ho visto mai niente. Vedendo comunque... Capisci, esatto. Secondo me questo inizio è un po' sgangherato, ma anche bene. Va bene, sì, sì. Spazio è una figata, ragazzi. È bellissimo. Dopo me la fai riprendere col telefonino, questa qua. È bellissimo. Funziona perché comunque si legge il lavoro, ma si legge anche, chiaramente, siamo due mondi. Che però funziona. E non è... Non è... Come dire, non fa ridere. Cioè, fa sorridere, ma non fa ridere. Non fa ridere. No, no. Fa sorridere perché dici, che figata, vorrei esserci io. Sì, 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 ma va bene. No, vediamo perché non... Nel senso che non deve essere una cosa che dopo regrediamo. Nel senso che arrivato a un certo punto sai che non riesci ad andare... Io quando ho imparato, eh, poi dopo domani ci divertiamo. Infatti. Quello che ho capito è che funziona. E questo è importante. 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 Bisogna vivere. Bisogna vivere. Bisogna vivere. Bisogna vivere. Bisogna vivere. Bisogna vivere. Ciao. Ma me li portano in... Questi sono, perfetto. Eccoci. Bisogna vivere. 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 Non ti preoccupare. Per lui è stato forse il regalo dei 50 anni, per me è il regalo dei 30, dei 40, veramente un regalo immenso. Sono veramente felice che abbia accettato. Grazie Lorenzo. Abbiamo passato questi tre giorni bellissimi, faticosi, ho fatto una cosa che non avevo mai fatto in vita mia. Mi sono reso conto di quanto lavoro c'è, quanto lavoro c'è nell'arte di uno come bolle. Per me è stato un gioco, un gioco però bello, istruttivo, emozionante. Ho avuto la conferma, insomma, che si tratta veramente di una persona splendida. I grandi artisti poi sono sempre delle persone profonde, con grande umanità, con grande... In fondo lo spirito di sacrificio nasce da qualche parte. E lui è quello che rappresenta proprio questo. Un uomo che da quando ha sei anni ha dedicato interamente la sua vita alla creazione di questa perfezione, di questa grazia, di questa poetica attraverso il corpo. Torno a casa con una cosa bella nel cuore. Spero di avervi fatto fare un bel viaggio dentro una cosa bella, divertente. Io mi sono fatto questo regalo di 50 anni, un regalo strepitoso. Cioè, me l'ha fatto lui. Ovvero di permettermi di fare una cosa che mi fa impazzire. A me la musica mi fa impazzire. Mi fa impazzire tutto quello che è dentro la musica. La danza è la musica senza la musica. Ma grazie alla musica. Fantastico, grazie, un abbraccio. Ciao ragazzi. È andata, si va. Ciao. Che questi cazzo di Fred Astaire, potevi farli che andavamo sempre dalla stessa parte? Invece hai due da una parte e uno da un'altra. Il mio scorioca.